Farmacia Catera Giancarlo Prodotti e consigli per la salute La farmacia Catera, di antica istituzione, fondata nel 1834, è situata nel centralissimo Corso Umberto a Roggiano Gravina. La farmacia offre prodotti farmaceutici di qualunque tipo, con consigli fidati e competenti anche su farmaci da banco, prodotti omeopatici e naturali e molto altro. Inoltre offre un servizio di foratura dell'orecchio e un ampio spazio riservato alla cosmesi, agli alimenti per l'infanzia, agli alimenti speciali per nefropatici e celiaci e integratori per il benessere fisico. Il negozio è anche possibile trovare collanta compressione graduata e comode calzature ortopediche e per l'infanzia Plantas e Dottor Corti. Farmacia Catera cura la salute da oltre 180 anni.